Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela ed eccoci ritornati con un nuovo appuntamento dedicato alla sop'opera Beautiful. In modo particolare parliamo delle anticipazioni USA Steffi fuori controllo, ma vediamo che cosa sta succedendo alla nostra protagonista che da un bel po' in avanti, vi assicuro, ne passerà veramente tante, soprattutto dopo la perdita della piccola Phoebe. Come già vi avevamo anticipato, Steffi farà un incidente stradale in moto causato proprio da Bill Spencer. La ragazza così si troverà in ospedale e vivrà un momento veramente drammatico perché sarà paralizzata per un periodo di tempo. Però incontrerà il dottore, il medico Finn, che gli darà una prescrizione di opiacei. Che cosa sono ragazzi? Sono dei farmaci che svolgono un ruolo terapetico insostituibile. Proprio nella terapia del dolore, specie in quello causato nel caso del cancro, diciamo così. Quindi hanno una potenza proprio contro il dolore. Ma Steffi però avrà un eccessivo attaccamento a questi farmaci per gestire il dolore. Non solo quello causato fisico, ma soprattutto quello mentale della ragazza. E sì, perché ragazzi ricordiamo, Steffi ha perso Liam e ha rinunciato a Beth dopo averla amata veramente come una figlia per mesi. Steffi passerà dei momenti veramente che gli lasceranno una sofferenza che si porterà per un bel po'. E così la giovane Forrester avrà una dipendenza proprio a questi farmaci. Il dottore però, oltre a prendersi cura della bella Steffi, si innamorerà anche di lei e scatterà persino il primo bacio. Però Liam Spencer farà il terzo grado al dottore. E questa intromissione di Liam nella vita privata di Steffi non piacerà soprattutto a suo fratello Thomas, accusandolo di voler tenere come sempre il piede in due scarpe. Anche Steffi proverà un certo sentimento per il dottor Finn, ma però dovrà nascondere questa fornitura illegale di farmaci che lei continuamente ha da un certo Finn. Thomas e Liam informeranno Rigge di quanto sta accadendo a Steffi, ma soprattutto è molto risentita la giovane moglie di Liam Hope che riterrà molto esagerato il comportamento del marito in quanto molto invadente della vita di Steffi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni in Beautiful per quanto riguarda la vita di Steffi che dopo il distacco dalla piccola Phoebe avrà veramente un periodo buio.